Il servizio sanitario nazionale e regionale, poi il Veneto ha molto da perdere, come lo conosciamo ormai si sta spegnendo come una candela, perché gli investimenti non sono sufficienti e non parliamo di investimenti economici, ma di investimenti sulle persone. Parole durissime dai medici di base sul servizio sanitario. Anche in Veneto, dicono, la sanità si sta spegnendo e quest'allarme va a corroborare le tante lamentele segnalazioni da parte dei cittadini che hanno voluto raccontare ai nostri microfoni quel che non funziona nell'organizzazione della sanità locale. I medici di medicina generale denunciano una mancata programmazione da parte della regione e soluzioni come quella dell'inalzamento del numero di pazienti, definite cervellottiche. È un problema in cui ci sono corresponsabilità, perché qui è un problema di mancata programmazione, cioè quello che si dà alla regione è che negli anni, anzi nei decenni, non è stata mai fatta una vera programmazione dei bisogni della cosa. E questo è una parte. D'altra parte non c'erano neanche tante risorse da parte dello Stato e quindi qua diciamo che hanno una bella responsabilità al 50% ciascuno. Il problema è che non è invertibile in questo momento, ma bisogna trovare delle soluzioni diverse che non si risolvono con una delibera fatta così da qualche cervellottico dirigente regionale in cui dice aumentiamo il massimale dei medici a 1.800. I medici chiedono che ci sia una maggiore attenzione per la medicina di gruppo e sottolineano come questo assetto riduca le liste d'attesa e pure gli accessi in pronto soccorso. Però, c'è un però, i soldi ci sono, ma sentite cosa dice Crisarà. 10 milioni di euro che però sono stati deviati sulle casse di comunità e non sulle organizzazioni dei medici. Perché secondo lei su questo la regione non vi ascolta? Ma guardi, io non voglio pensare male, ma nel piano sociosanitario del 2018 l'assistenza territoriale tra le possibilità è quella che possa essere delegata a società private.